Perché lei non si è candidata con il PD? Lei viene dalla sinistra, viene dalla storia del Partito Democratico. Perché non ha fatto la scelta con il Partito? È male informato. Io non vengo affatto dalla storia del Partito Democratico. Sono un'indipendentista. Non ho assolutamente niente da spartire con il Partito Democratico. Noi aspettiamo, eh? Ci siamo. Cosenza è arrivato. Le firme ci sono. Arrivano le firme da Cosenza. Solo che qui, quanto fa mica, eh? Farà un 42 gradi? Più o meno. Non ci si può appoggiare. Però devono arrivare le firme. Noi siamo qua. Aspettiamo. È arrivato, eh? È arrivato il Partito. È arrivato. Ciao ragazzi, vi mando le poche firme che ho potuto raccogliere. Purtroppo non ho potuto fare di più. Ho dovuto fare tutto molto freneticamente in un solo giorno. Come tutti, grandi. Come tutti. Grande Pullman. Quanto vi voglio bene, ragazzi. Non mi pare vero, eh? Come hanno fatto? Come abbiamo fatto in sei giorni a fare tutto questo? Ma come abbiamo fatto? Così si fa, ragazzi. Bravi. La Presidente ha detto che ci meritiamo un taxi. Eh? Sì. Dopo essere venuti qui in autobus con i... Ci dobbiamo rovinare. ...i 51 gradi, ha detto che ci meritiamo un taxi. Lo dice la Presidente del Comitato. Si può fare. Si può fare. Sì. 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 Sì.